ok e bella a tutti ragazzi e ragazzi e bei dodi in questi video oggi andremo sotto nel tuffo marino e vediamo un posto dove stanno dove sei? qua allora allora si oh mi vedi? no aspetta guarda vedo se stanno o no no ma dai dai come è possibile? 7 dai vieni che c'è questa che ci stanno un botto di player stavo per dire play star vieni vieni non c'è un casino vieni 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 stavo per finire il tempo vieni quello qua 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 quello qua che fa ben se lo chiedo a tutto che no non è qua nooo sta andando da nulla da nulla come fai a venire? messo da sola mi sono avuto a venire con te no 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 non hai capito niente ma perchè non posso venire con te? ma io sono appena arrivata non sono nella stessa mappa ma io non sono nella tua mappa il primo chi è? come se la playa e la playa noi abbiamo usato dei tamburi si, vero? vai qua, vai la tutti quanti nel sud maria anzi esci andiamo nella posta con stanza perché? vieni colmi tacchi con la gucci bea gucci bea si si ti vedo ti vedo andiamo andiamo la 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 di la di la qua 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 dov'è? qua c'è qualcuno? si si appertami vieni ti sei è arrivata è arrivata però ti lasceranno di più però no si era naturalmente bella no era nei secondi è vero ma vediamo che si fa io sto andando a casa ragazzi allo i nostri posti questo è il 9 di qui unico al 9 ok grazie ma lo stesso posto va schifo dai posso cercare il mio forse questo è il mio ti aiuto ti aiuto questo eccolo eccolo l'hai trovato però io ve lo sto andando a te stiamoci qua tu dici sei seguito? no 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 siamo a livello c'è stato 656 653 vieni vedo che sta avviare allora avete il tempo per esplorare questo sottomarino no no perchè ero non scusate la mia madre quindi non lo voglio esplorare ma che su ecco esplore ah dobbiamo esplorare potete esplorare il sottomarino io non lo esploro perchè sennò dopo non mi sa più risedere ok ma perchè mi puntano sempre a me perchè da no è per mettere il posto qual è il tuo posto? che lo so tu non sei ancora seduto ci puoi vedere qual è il tuo posto questo è il mio posto cioè il posto oddio che è successo? mi pare che è una strada che non era seduta la corrente dell'acqua è forte vabbè vabbè scendo perchè non dobbiamo più fare niente cacchio hey I'm getting hungry ah io ho fame come sempre yeah Chiara ma perchè sto tizio dove la dite del cibo? eh sì stare seduti calma ehm ehm oh cosciottino il cassatta io il cosciotto cioè vabbè io mangio io me la mangio pure perchè tanto non curo dopo io l'ho mangiata ma se muoio io questa era la vita cibo gratis ah ah adesso giù sta qua sta qua sta qua ti sentito la cavalletta la vai le ho il mio stomaco è senza ti provate con le agno ehm la ah oh no ehm trovate il meditut ma il mio trovatelo 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 ya no raga trovatelo quanto ho trovato che schifo aiuto aiuto provati i cassetti i cassetti i cassetti i cassetti no raga che muore oh 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 grazie grazie di t h i c non c'è tu eh scrivi c'è ma si ma si ma si scrive a tu h i c scicolone x x dopo il mio aranzo fai invio 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 hai scritto si tu h i c no t per t eh te hai scritto t h i c so te l'hai ma secondo te è italiano oppure no 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 andiamo qua dietro andiamo qua dietro andiamo qua dietro qua dietro che c'è io c'è il cassettino oh 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 non me lo so neanche mangiata Vieni qua dietro scemo, se vieni qua dietro lo sturo al sedere Metti qua bravo va tenno, va tenno questo è... non ho saputo che tagli il sfido ne hai saputo, andiamo, 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 apri, apri no vabbè quello è la... oh no non siamo morti, non siamo morti mangiato mangiato vabbè da che ha scritto? vedi che è italiano, schifosa non mai mi avevo paura che ti schiava questo ragazzo, povero comunque io non sono proprio morta quindi non ho perso la vita no scusiamo cioè tutte le pinette da andando... le la... le assi... le assi... ho detto... ho detto le lassi... le lassi... vieni qua vieni qua aiuto aiuto ho questo cazzo di gordo senti che mi sono live qua ok 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 prendi, prendi rilassa eh tu la pensi che non c'è? infatti potremmo morire vabbè ci sta aiutando un po' no vabbè ci stanno sormeggendo è vero fammi mettere a me tizio chi lo vuole tanto ma ti sto aiutando no adesso perdendo vita no 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 non quante ne manca? una! una! vieni tu l'altro! vieni a coprire tutte queste cacchie! vieni, ci sono altre, vieni! ne ho presa una! si lo so! mamma te, Sara, se mi fanno ridere tutto! no! ecco qui! non siamo morti! per colpa mia non siamo morti! la vita è bella! non è male che non siamo morti! stavamo per morire! stavamo per morire! spadeo! tu non sei proprio aiutato! non sei che mi dici spavevo! che ti metto io spavevo! metto qua dietro! è il mio posto preferito! per non morire! il mio posto è il mio posto! il mio posto è il mio posto! il mio posto è il mio posto! benvenuti ai miei amici! benvenuti ai miei amici! no! ci ha divorato una balena! no 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 no! deve farlo lui! io sono stata prima scemo! sono stata prima scemo! che ti voglio! che ti voglio! no! no! non lo sei tu, Sara! no! metto qua! voglio uscire! ah! posso uscire Elena! usciamo! usciamo! io esco! non voglio averci niente! io esco bella! io metto qua! no! no! non ci pensate proprio! no! no! all'altro! all'altro! abbo salute! e... 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 mi ha iscritto! mi ha iscritto! non li dare supporto perché vuol da scuola! non vuole supporto! perché sennò muore, capito! per quello! è facile mi ha iscritto! dai, sa tutti ingredienti! pesce! che sarebbe... pomodoro e... pane e... pesce! stiamo tenendo la mano! questo merda! e... e nulla! ok! tizio! 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 corri 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 corri! vaiiii! corri come se non ci fossi un domani! dov'è quel cazzo di cocco? no! non ci sono! il cocco è stato adesso il primo! un cazzo di sorella! vieni! ha vinto! si! vabbè da salto fuori alla fine! è bella la vita! bella! e non ci ha divorato! nè! blalalalalalalalalalal... oh! dio! no! no! dove sta? ma questa io non lo so fare! eh! devi... prendi il martello! qua sta! prendi il martello! dove sta la stanza? sta qua! Sto a reggirando Ah no, dobbiamo prendere la maschera d'ossigeno Ti l'hai presa? No Vieni nella stanza Dov'è? Qua, qua Gira, gira Mi pare che è questo Sei verde? Sì, vai Prendi la maschera d'ossigeno che sta in questa stanza Sta in questa stanza e premi sulle bombole, ok? Premi sulle bombole Aiuto! Premi sulle bombole Premi! Ma premo! Ok, girati e vedi se c'è la maschera Sì, sì, sì La tengo, la tengo La tengo Fai una foto Vieni, ah, girati Girati Poi la mano ne esce dove sta Per non battere il sole Il martello io prendo Oh, siamo vivi tutti Ma non c'è il panno Dove sta il panno? Tu prendi il panno Io prendo Ah, no, tutto il tuo il martello Martello Aiuto Aiuto Che la prendi il panno? 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 aiuto dai ok sta facendo quel tizio non lo so dove sta non lo so dove sta te l'ho detto ok abbiamo finito sti cosi eh dico abbiamo finito sti cosi ah la scopa la scopa la scopa la scopa l'aiuto pure io no bravo siamo lenti dai io odio la lentezza vabbè cosa voglio andare a casa andare a casa anch'io calma non panico questo non è il momento dobbiamo andare a casa dobbiamo andare aiuto vogliamo andare a senza il capitano ma io sono lenta come un caima guarda non l'avevo capito lo sai cioè era inutile ok no fatelo tu ho tettuto i metti di là io metto qua abbassati i metti di là abbassa no è un corso quasi brutto ma è svenuto scema adesso il sottomarino è programmato per affondare nei guabissi buona fortuna a trovare la combinazione corretta chiara abbatta le loghe com'è no pure un'altra aiuta non ci vedo tutti quanti tutti i bottoni dobbiamo premere tutti 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 i bottoni premo questi ma dai ma non è tanto difficile ma non è tanto difficile ora vai a voi tutta a me no a me va là che ora ti dice devo rispondere no appunto non ascoltare quello che dice lui porta il sottomarino cioè in superficie la scelta è tua come vuoi ehm ehm survive te su su mar no you have ma scusa non stavo con te no ehm presto si si torna torna vai via tutto c'è no abbiamo un metro oh ma lo stavo portando ok andiamo a quello yeeeh ma tengo pure lo spazzino tengo ancora lo spazzino no sollevato ma me è arrivato ma me è arrivato ma me 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 facciamo un'altra e comunque ragazzi ci salutiamo io c'ho due vittoria no dove andiamo su Blacksburg no Piggy no Piggy Piggy eh è da Piggy alfa e infatti ho pure delle cose da farvi vedere delle cosucce mie no no in settembre no 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 ok play dai seguitemi roga play ho una live troppo figa play guardate non guarda no è appunto ciao ma questo ci uccide sto cosa dai mi piace voglio piangere oh va bene sì 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 io voglio essere traidi traidi ah non c'è ancora il più bello ma siamo solo in tre ma no ah ok allora anche io la mia morte sarà troce no io non mi voglio far uccidere uccidimi ti prego c'è una formica attaccata sulla maglietta uccidimi no è morta sulla tua maglia è morta sulla tua maglia Chiara no vaffanculo ma dove andiamo? vuoi essere uccisa uccidimi fai dimmi un lombrico dove sei? e dai ma perchè ecco scrivi ciao in chat scrivi ciao in chat scrivi ciao perchè? vabbè non fa niente non muoio ehi ragazzi ragazzi non devi sbloccare quella ragazza grande grande dai morite io prima tenevo sta qua però era troppo volgare perchè tipo il naso sembrava un piccolo ecco il naso sembrava uno schifuto guardatelo fa schifo non è degna di me lave 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 All my heart, all my love Quindi mamma, 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 mamma. Mamma, 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 mam andiamo in un altro per questo io voglio una cosa per curiosità vado a vedere se youtube se è bene anche se la sua chiara rica 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 on on E' un forte... Ah che non c'è più! La mia voce segue con la melodia, melodia! Wow! E' il Malibu, ricoglio che faccia la macchera di più! Uuuuh! 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 Prova qui! La piccola! Stai guardando! Ciao! Ciao! Ciao!